Traghi il tuo omonimo? Quel bimbo mezzo nudo senza grazia, nato nella merda. Per me non ha grazia. Mi piace la corona. Quella è bella, eh? La vorrei io. Non sta bene sulla testa di una santa. Ho visto tanti film di principesse in orfanotrofio, pieni di castelli e di principesse con le corone. Ma una cosa non ho mai capito. Perché mangiano solo anatra? Potrebbero mangiare qualsiasi cosa, ma no. Anatra mangiano solo quella. E mangiano con le mani. Ruttano, sputano per terra. E danno dei porci a noi. Una volta mi hanno detto che... Se baci il piede a un morto non temi più la morte. Una cosa un po' strana da dire. Ehi! Non potete stare qui. Ci risiamo, succede sempre. Questi bambini stanno notte e giorno sulle scale davanti all'entrata della chiesa. E finiscono sempre per interrompere le cerimonie. với 2 giorni. M